Il periodo ipotetico esprime un'ipotesi, in genere introdotta dalla congiunzione SE, da cui può derivare una certa conseguenza. Oggi vediamo in breve il periodo ipotetico della realtà. Nel periodo ipotetico della realtà, l'ipotesi è presentata come un fatto reale, sicuro. Nell'ipotesi, il verbo è all'indicativo presente o futuro, mentre nella conseguenza può essere o all'indicativo o all'imperativo. Esempi! Se piove, rimango a casa. Se mangi troppo, ingrassi. Se leggerete più lentamente, capirete meglio. Se ti piace, compralo. Ciao!